Allora, io in realtà nei minuti che ho a disposizione probabilmente dovrei giustificare la mia presenza come storico delle religioni qua. In realtà molto semplicemente ho la fortuna di avere in un certo senso il compito più facile oggi, che è quello di raccontare una storia. E da una parte è la storia del motivo per cui siamo qua in un'azienda che si occupa di data science e di intelligenza artificiale e all'ingresso di questo evento sulla destra c'è una citazione in una nuova traduzione dal trattato sulla dignità dell'uomo di Giovanni Pico. Quindi 500 anni fa un pensatore emiliano, un pensatore modenese, che in qualche modo ha ispirato il filo conduttore del ragionamento del manifesto. Dall'altra parte voglio appunto molto brevemente raccontare la storia del percorso che abbiamo seguito per comporre e ricomporre tutte le suggestioni che sono emerse dal confronto con i ragazzi e le ragazze di Energy Way perché effettivamente fin dall'inizio la finalità di questo manifesto è stata quella di sistematizzare in qualche modo, di cercare di dare un ordine a un disordine creativo che però è molto chiaro dal punto di vista dei valori, degli ideali che ispirano anche la motivazione lavorativa. Ora dal punto di vista diciamo della storia del pensiero è stato un po' un caso il mio avvicinamento a Energy Way perché nel corso del tempo facendo un po' chiacchierate occasionali con Fabio lui mi parlava di intelligenza artificiale e più me ne parlava più mi suonavano familiari molti temi. Io sono uno specialista di storia delle religioni in particolar modo di rinascimento, in particolar modo di cabala ebraica e del modo in cui la cabala ebraica ha influenzato il pensiero rinascimentale. Da tanti anni lavoro su alcuni pensatori del rinascimento italiano nel tentativo di capire in che modo questa disciplina misteriosa, misticheggiante della cabala li avesse influenzati. Ora parlando con Fabio una sera, rileggendo il testo di Giovanni Pico mi sono reso conto in un passaggio che Giovanni Pico affermava che l'uomo era al centro dell'universo perché era l'unico che poteva essere nell'interprete e da lì ovviamente mi si è spalancato un mondo e ho cominciato a cercare tutte le chiavi di lettura che da quel passaggio mi portavano a declinare nella chiave in cui qua si lavora tutto il pensiero dell'intelligenza artificiale dal punto di vista del pensiero diciamo della filosofia rinascimentale. Ora la cabala che cos'è? Sostanzialmente è un pensiero mistico che afferma che tutta la realtà è codificabile nel sistema dell'alfabeto ebraico. Quindi la realtà è scomponibile e ricomponibile rimodulando la posizione delle lettere. Le lettere dell'alfabeto ebraico hanno valore numerico e quindi i cabalisti sostenevano che potevano attraverso delle tecniche di permutazione, di inversione delle lettere modificare il valore delle parole e quindi trasformare la realtà. Allo stesso modo i cabalisti erano gli unici che già alla fine del 200 credevano di riuscire a attivare dei meccanismi e delle strategie di predizione attraverso la lettura di quelli che erano i valori nascosti nella tradizione della Torah. Cosa succede? Che i cabalisti parlano sostanzialmente di realtà codificata, parlano di possibilità di predizione attraverso la decodificazione della realtà nascosta. Questa è intelligenza artificiale. Questa è la possibilità di inserirsi in quella che è la realtà traducibile come codice, di poterne capire le dinamiche e i meccanismi in maniera profonda e di cercare le modalità per agire sui numeri dal punto di vista certamente dell'efficienza, dal punto di vista dei miglioramenti dei processi di produzione a tutti i livelli. Quindi in un certo senso qua quando ho cominciato a frequentare Energy Way mi sono ritrovato un po' nella bottega dell'alchimista e da lì abbiamo cominciato a costruire questo ragionamento. Giovanni Picco diceva che nel momento in cui l'uomo riconosce di essere l'interprete, riconosce la propria capacità di interpretazione della realtà, ne diventa irresponsabile. Ovviamente in chiave religiosa diceva che l'uomo è il co-creatore, è il custode del creato. Ecco qua Energy Way sta lavorando sull'intelligenza artificiale e la scienza dei dati applicata al perseguimento di quelli che sono gli obiettivi di sostenibilità in un'ottica veramente molto forte. A partire da queste idee, da queste suggestioni che ovviamente erano veramente la trasversalità, forse l'anarchia del pensiero assoluto, ho cominciato a confrontarmi uno per uno con i ragazzi e le ragazze di Energy Way. Ho voluto incontrarli per capire da ciascuno di loro quale fosse il valore che li animava, quale fosse il valore che li aveva portati a lavorare qua e per cui riconoscevano che Energy Way fosse il posto giusto in cui investire tempo, energie, visioni di futuro. A partire dalla raccolta, dal confronto con tutti i ragazzi abbiamo trovato una serie di temi comuni, una serie di fili conduttori che dopo un processo insomma piuttosto articolato, discusso, di rielaborazione di tutti i concetti che erano emersi ci hanno portato a strutturare, a cristallizzare gli otto punti del manifesto. Ora abbiamo deciso di spiegarvi un po' quello che è il filo conduttore, sperando che poi ci sia il tempo dopo per parlare singolarmente di ogni punto, ma ci sono alcuni temi forti su cui vorrei richiamare la vostra attenzione. Il primo è il punto di partenza, l'uomo è un interprete imperfetto. Da questo punto di vista, sulla fragilità della capacità di percezione dell'uomo, sulla insufficienza della capacità di interpretazione dell'uomo, abbiamo deciso di basare il nostro punto di partenza. Riconoscere che l'uomo ha una capacità limitata rispetto alla possibilità di capire quello che gli succede intorno. E quindi deve riconoscere che ha bisogno di qualcosa di più, che ha bisogno di strumenti, che ha bisogno di processi che lo aiutino a perfezionare il pensiero, che lo aiutino a migliorare la sua modalità, il suo atteggiamento di confronto e di interazione con la realtà che lo circonda. Ovviamente in questa sede quello che vogliamo valorizzare è il tema dei numeri, il tema della matematica, il tema dei dati, che permettono all'uomo di interagire, di cercare, di trovare le giuste chiavi di lettura dell'universo in cui si trova a vivere. Ed è un universo fragile, ed è un universo delicato, di cui forse non ha avuto fino ad oggi tutti gli strumenti per capire la vulnerabilità. Ecco, noi partiamo da lì. L'uomo è un interprete imperfetto in un universo che comunque è molto fragile, è un'armonia da custodire. Allora qua affermiamo che la matematica, che la scienza dei dati, che la rivendicazione della responsabilità di usare i dati come strumento di interpretazione, deve portare a un cambio di atteggiamento, deve portare a un ripensamento di quello che è il ruolo del libero arbitrio, quindi della libertà di scelta di ogni persona, a partire da una consapevolezza, a partire da una capacità reale di interpretazione del mondo che ha di fronte. Lo vediamo tutti i giorni, che siamo sempre più abituati, ormai anche un po' anestetizzati, a dei processi decisionali, diciamo di pancia, istintivi. Sta anche nascendo contestualmente, in un certo senso, anche la mitologia della cosiddetta data-driven society, quindi della conoscenza basata sui dati, che in molti casi rimane comunque limitato, circoscritta all'interno di contesti che non permettono veramente che questi dati diventino risorsa comune. Ecco, a partire dalla imperfezione dell'essere umano, dalla fragilità del cosmo, a partire dalla fragilità e dall'incompletezza della matematica che offre la possibilità di continuare a giocare con la ricerca, di continuare anche a vivere di curiosità e di scoperta, noi vogliamo con questo manifesto promuovere un processo di sensibilizzazione che porta a una maggiore attenzione verso i dati non come modello di distanza, di distacco, di astrazione, di separazione dalla realtà, ma come forma di creatività e di espressione del pensiero umano, che deve ovviamente essere ricondotto anche veramente a una dimensione di creatività e di immaginazione. Ancora nel Rinascimento immaginazione e matematica erano molto legati. Forse i più noti matematici di inizio del Cinquecento erano Luca Pacioli, che lavora sulle proporzioni divine dell'universo, che è noto tra l'altro per aver lavorato molto sui poliedri in un'opera illustrata da Leonardo. E l'altro era Francesco Zorzi, un cabalista veneziano, guarda caso, profondamente influenzato dal pensiero di Pico che scrive l'Armonia Mundi, da cui prende il nome questo evento. Ora nel Cinquecento i matematici erano consapevoli che la matematica fosse uno strumento certamente di poesia, certamente di alimentazione del pensiero filosofico, ma erano soprattutto consapevoli del fatto che la matematica, in una dimensione come quella che interpretavano loro come teologica, era il registro, era il progetto, era l'architettura del cosmo di cui dovevano acquisire consapevolezza. Con questo manifesto non vogliamo lanciare dei messaggi che siano totalmente astratti. Vogliamo certamente rispettare la complessità dell'argomento, vogliamo certamente valorizzare anche il tema dell'evocazione perché non sia semplicemente una serie di enunciati precisi che non lasciano spazio all'interpretazione o all'immaginazione e vorremmo che ogni punto originasse delle domande, dei dubbi, delle criticità. Non siamo qua quindi a trasmettere una lettura da assumere come verità, siamo qua a proporre dei dubbi. Ecco, in un certo senso è un manifesto di dubbi o un manifesto di domande che speriamo che in qualche modo possa aiutare a valorizzare questo tema della matematica fragile, della matematica incompleta e che aiuti in qualche modo quello che chiamiamo, che riconosciamo come l'uomo imperfetto ad attivare la propria immaginazione per cercare nuove chiavi di lettura e per usare queste chiavi di lettura per occuparsi davvero della custodia di quella che è un'armonia da custodire.